Gruppo vietrese di musica etno-popolare, i Musica Storia nascono con lo scopo di rivalutare e diffondere il patrimonio musicale della Campania e di tutto il Sud Italia, soprattutto l'idea di una musica che affonda le radici nel mondo popolare del Salento e della Lucania. Nel corso della loro lunga carriera si sono esibiti in tutta Italia e anche all'estero, partecipando a diversi programmi televisivi e pubblicando molti album. Il 2021 è un anno importante per i Musica Storia, compiono 25 anni di attività. In formazione la metà dei componenti è ancora presente, di quelli storici dell'inizio. Sì, nasciamo nel 1996, la formazione storica, eravamo in sé, Francesco, Angelo, Gaetano, tutti i vietresi. Io, Stefano Scafura e Antonella Citro, quindi tutti i vietresi. E ancora oggi, quattro di loro sono ancora nel gruppo, quindi siamo arrivati ad otto. Abbiamo anche una nuova leva, quindi continua il nostro viaggio, 25 anni quest'anno, quindi speriamo anche di riuscire a fare anche una grande festa. Colgo anche l'occasione per salutare il nostro leader, che è Francesco, che è stato molto male, però si sta riprendendo alla grande, quindi per l'estate sarà dei nostri di nuovo. In Musica Storia ci faranno ascoltare un brano della nuova compagnia di canto popolare, In Galera Lipanettieri. In Galera Lipanettieri 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 In galera l'ipanettiera, sagra devana già badona, in galera l'ipanettiera, sagra devana già badona, la fama, la popolazione, nuzzereva la panziera, in galera l'ipanettiera, in galera l'ipanettiera. O che spazio è che bello spizio, quando venne la giustizia, o che spazio è che bello spizio, quando venne la giustizia, in galera l'ipanettiera, in galera l'ipanettiera. O che spazio è che bello spizio, quando venne la giustizia, o che spazio è che bello spizio, quando venne la giustizia, o che spazio è che bello spizio, quando venne la giustizia, in galera l'ipanettiera, in galera l'ipanettiera. Grazie mille!